Forrester Buongiorno Ridge Buongiorno Bella Dove stavi andando? Stavi fuggendo? In inglese In inglese? Noi guarda in Italia Siamo in Italia Questo è il Giro d'Italia Sì, ma i primi giorni in Olanda Non ho sentito voi parlare Olanda, vabbè È un po' difficile In Italia? Ma per me l'italiano è un po' Wow Ragazzi qua Mamma mia Ragazzi Preferisco questo Ah però capisci l'italiano Appena adesso parliamo in inglese Dove ho parlare Alla mattina svegliata adesso Guarda che sveglia Guarda, guarda che sveglia What do you think about Giro d'Italia? Tempo di merda And about the girls? The girl? The girl? Ottavo anno che faccio il Giro Cosa dici? Che non mi piacciono le donne Non ti piacciono le donne? No, se non mi piacciono le donne Non vengo otto volte qua Ah ok ok Grazie Allora attenzione Per Riggi Forrester Ragazzi 65,7 Non si può dire? Non si può dire Il dottore non deve sapere quanto pesa Riggi Riggi grazie Ciao Riggi Ciao Ma vi è in Italia Ma vi è in Italia Ciao 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 Ciao